130 persone uccise, 3 in più rispetto al 2011, pari al 2,4%, in 128 incidenti mortali e 1111 feriti. E' questo il triste bilancio relativo agli incidenti dovuti alla pirateria stradale in Italia secondo i dati pubblicati da ASAPS che lega la crescita numerica di questi episodi con la crisi economica, visto che non si può escludere che una delle ragioni che spingono molti conducenti a fuggire sia la mancanza di assicurazione. L'alcol è un accelerante pericolosissimo in questi casi, se è vero che il 20,2% dei pirati, 115 su 569 identificati, è risultato positivo all'etilometro. Tra questi, 15 avevano assunto sostanze stupefacenti. Nei 128 episodi di pirateria mortale, l'autore aveva certamente bevuto o assunto sostanze nel 14,5% dei casi in cui è stato identificato poco dopo l'incidente. Le indagini in casi di questo tipo restano uno dei fiori all'occhiello degli organi di polizia stradale. A 569 dei 953 pirati è stato dato un nome e un cognome nel giro di poche ore o pochi giorni. 144 sono finiti in manette, il 25,3%, perché rimasti latitanti fino alla loro individuazione, senza che si siano messe a disposizione spontaneamente, e 425 fuggiaschi sono denunciati a piede libero, il 74,7%.